Benvenuto su Scelta del prodotto. In questo video daremo un'occhiata a migliori TV Samsung. Ho stilato questa lista basandomi sulla mia ricerca e opinione personale e ho cercato di catalogarli in base al loro prezzo, qualità, durata e altro. Se vuoi conoscere il prezzo e saperne di più su questi prodotti, puoi visitare i link nella descrizione qui sotto. Bando alle ciance, cominciamo con la lista. Cominciando la nostra lista con il numero 5, abbiamo Samsung Smart Monitor. Il Samsung Smart Monitor è il primo monitor con servizio di streaming media integrato. Incorpora una serie di caratteristiche che consentono agli utenti di godere di contenuti su un grande schermo, tra cui HDR10 e connettività intelligente. Il monitor FHD da 32 pollici ha un design sottile, elegante e senza bordi su tre lati per un'esperienza visiva senza soluzione di continuità. Gli assistenti vocali multipli permettono agli utenti di controllare tutto con la loro voce. Lo Smart Monitor di Samsung è il primo monitor al mondo con servizio di streaming media integrato. Il 32 pollici il monitor FHD ha un design sottile, elegante e senza bordi su lati per un'esperienza visiva senza soluzione di continuità. Con gli assistenti vocali multipli permette agli utenti di controllare tutto con la loro voce. Numero 4. Samsung TV LED. Il Samsung TV LED 32 HD DVB T2 ha un grande valore per il prezzo. Ha un design elegante e una buona qualità dell'immagine. Il televisore ha anche un sintonizzatore digitale incorporato che ti permette di guardare le trasmissioni digitali, compresi i programmi HD TV dove disponibili. La qualità del suono sulla TV è buona, ma ci sono alcuni problemi con gli altoparlanti. Il posizionamento degli altoparlanti non è ideale e il suono a volte può essere metallico. Nel complesso, però, il Samsung LED TV 32 32 T4002 HD DVB T2 è un grande valore per il prezzo. Il Samsung LED TV 32 HD DVB T2 ha un grande valore per il prezzo. Ha un design elegante e una buona qualità dell'immagine. Il televisore ha anche un sintonizzatore digitale incorporato che consente di guardare le trasmissioni digitali, compresi i programmi HD TV dove disponibili. Tre gradi posto c'è Samsung. La Smart TV di Samsung ha la tecnologia HDR per dettagli e sfumature ultra definite, pur color per colori intensi, naturali e realistici. Un design elegante e sottile che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, ed è già predisposta per ricevere il digitale terrestre 2.0. LN4300 ha anche un potente processore quadcore che migliora drasticamente le prestazioni, così puoi passare da un'applicazione all'altra, trasmettere contenuti in streaming e fare multitasking con facilità. E con lo Smart Hub di Samsung, avrai accesso a tutti i tuoi contenuti preferiti in streaming e alle app in un unico posto. Così se stai guardando l'ultimo film di successo, binge watching il tuo show televisivo preferito, o giocare l'ultimo videogioco, il N4300 ha tutto il necessario per un'esperienza di intrattenimento coinvolgente e definitiva. Numero 2. Samsung TV. Il televisore Samsung da 55 pollici 4K è il televisore intelligente ideale che ti porta immagini cristalline, nitide e dettagliate. Questo televisore UHD è dotato di un display di cristallo con colori vividi, intensi e ottimamente realistici. Ha anche un processore di cristallo che trasforma tutto ciò che guardi in alta definizione 4K. La funzione HDR consente di visualizzare i contenuti in dettaglio perfetto con i livelli di luminosità, contrasto e colore migliorati di questa Smart TV Samsung. È possibile utilizzare la compatibilità con l'assistente vocale per controllare tutto semplicemente con la tua voce Alexa. Google Assistant e Bixby sono compatibili. Questa TV 4K ha un design elegante e moderno che si adatta perfettamente a qualsiasi casa. Fine, il numero 1 della nostra lista, Samsung. Goditi un'immagine ancora più reale con la nuova tecnologia KLED di Samsung. La nostra rivoluzionaria pellicola Quantum Dot estende i confini del nostro display TV LED convenzionale producendo un miliardo di sfumature di colore, dandoti l'immagine più realistica del pianeta. Oltre al suo design all'avanguardia, questo TV offre anche un'esperienza sonora coinvolgente da qualsiasi direzione. Sentire ogni dettaglio chiaramente con voce ultra chiara migliorata dalla potente tecnologia Sound Alive di Samsung. E con l'accesso a contenuti 4K premium e applicazioni come Netflix, Amazon Video e YouTube, siete sicuri di trovare qualcosa da guardare che vi lascerà sempre. Per sempre, troverai tutti i link di questi prodotti nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato questo video. Se l'hai trovato utile, allora metti mi piace e condividilo. Inoltre non dimenticarti di iscriverti al nostro canale per vedere altri fantastici video come questo.